Vediamo adesso come fare la ricerca avanzata. Per fare la ricerca avanzata, dobbiamo cliccare su Advanced. Questo tipo di ricerca è più facile da eseguire per i non esperti ed offre maggiori possibilità di ricerca. Sono infatti presenti 6 opzioni anziché una. In più, la ricerca avanzata permette di scegliere se le parole devono essere ricercate nel titolo o nell'intero documento. Title only, anywhere in the document. La prima opzione, All of these words, corrisponde alla ricerca base, quindi tutte le parole vengono cercate insieme, come se ci fosse l'operatore AND. La seconda opzione, Any of these words, corrisponde alla ricerca che facciamo quando mettiamo i vari sinonimi tra l'operatore OR. La terza opzione, permette di cercare le parole come frase, come quando mettiamo dei termini tra virgolette. This exact phrase. Così le parole vengono cercate nell'ordine esatto in cui sono state scritte. Se vogliamo escludere un termine, possiamo usare l'operatore NOT o l'opzione Escludi queste parole. Le ultime due opzioni permettono di limitare la ricerca a delle annate specifiche. Facciamo la ricerca precedente, anche nella ricerca avanzata. Cerchiamo la riabilitazione della persona con ictus. Nel primo campo mettiamo Stroke. Nel secondo i sinonimi che avevamo individuato, che erano Rehabilitation e Physiotherapy con l'asterisco. Lanciamo la ricerca con il search. Troviamo gli stessi risultati della ricerca precedente. Un po' di euro per ciò. Grazie a tutti.